La Regione Piemonte ha pubblicato l'avviso rivolto ai lavoratori occupati e alle imprese per l'assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi di formazione. Il valore massimo di ognuno è di 3.000 euro per un triennio ed è utilizzabile presso le agenzie formative fino alla copertura del 70% del costo. Per fare domanda ci sarà tempo fino al 18 di novembre. La novità è un catalogo unico che racchiude le oltre 2.000 offerte formative che comprendono informatica, lingue, ambiente, ristorazione, servizi alla persona, amministrazione, meccanica, impiantistica, attività commerciali e marketing. Hanno titolo per farne richiesta tutte le imprese che intendono far partecipare i propri addetti a una o più attività. Ma possono farne richiesta anche i lavoratori, i titolari di microimprese, i professionisti, i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA. Per i voucher formativi aziendali è prevista una spesa di 49.542 euro per l'ambito Biella-Novara-Verbagna-Vercelli. Per quelli individuali sono stati assegnati 137.041 euro.